Inail, presentata la relazione annuale sugli infortuni e le malattie professionali nel 2023. Nel corso dell'anno sono diminuite sia le denunce di infortunio sia i casi mortali. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Lo scorso anno le denunce di infortunio hanno registrato un netto calo, sia nel complesso sia i soli casi mortali, rispetto al 2022. In particolare, gli infortuni registrati in totale sono oltre 590.000, il 16,1% in meno, rispetto alle 704.000 denunce del 2022. Di queste, 1.147 hanno avuto un esito mortale, il 9,5% in meno rispetto ai 1.268 del 2022. Gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro sono stati 375.578, il 64% delle denunce, di cui il 18,1% avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto o in itinere, e cioè nel tragitto andato a un ritorno casa-lavoro. Invece, gli infortuni mortali avvenuti sul luogo di lavoro sono 550, il 48% delle denunce, di cui poco più della metà il 52,2% fuori dall'azienda. In merito alle malattie professionali, nel 2023 sono state oltre 72.000, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. Tuttavia, questo numero riguarda le malattie, non i soggetti malati, che sono 49.000 circa. Questo perché, se ad un singolo lavoratore vengono diagnosticate più patologie, possono essere protocollate anche più denunce. Poi, il rapporto mostra che anche il bilancio del 2023 si è chiuso in positivo, le entrate ammontano a 12 miliardi e 440 milioni di euro, il 6% in più rispetto agli 11 miliardi e 707 milioni del 2022, mentre le uscite sono 9 miliardi e 371 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto ai 9 miliardi e 100 milioni del 2022. Ma nel 2023 c'è stata anche l'estensione della copertura assicurativa ENAIL agli studenti e al personale del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Questa copertura assicurativa, infatti, oltre a tutelare dagli infortuni che possono accadere durante esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, copre anche eventuali infortuni che possono accadere durante lo svolgimento delle attività di insegnamento, apprendimento dei docenti e degli studenti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado. Inoltre, sempre dal 2023, è stato esteso l'obbligo assicurativo anche ai lavoratori sportivi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A seguire, il rapporto evidenzia che nel 2023, dal controllo amministrativo per la verifica della coinguità nella corresponsione dei premi di assicurazione e per il contrasto all'evasione, gli ispettori e-mail hanno definito 8.739 pratiche per accertamenti. Il 93,73% erano aziende irregolari, 8.191 in totale. Inoltre, grazie a questi controlli, sono stati regolarizzati 44.009 lavoratori, di cui 1.708 in nero. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, al 31 dicembre 2023 sono state registrate 618.594 rendite in gestione per inabilità permanente e ai superstiti, in calo del 2,26% rispetto al 2022. Le nuove rendite sono circa 18.927, il 13,36% in più rispetto al 2022. Inoltre, dal 16 ottobre 2023, l'Istituto ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per offrire un migliore servizio di sostegno psicologico. In ultimo, il rapporto mostra i miglioramenti apportati in termini di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, grazie al bando ISI. Nel 2023 sono stati messi a disposizione 508,4 milioni di euro e le aziende beneficiari sono state quasi 28.000, per un risparmio complessivo di oltre 178 milioni di euro. E per ora è tutto, al prossimo Focus!